La realtà aumentata e la realtà virtuale sono cose profondamente diverse. Quando le mettono insieme, di solito, è per dare un po' più valore alla realtà virtuale, che, credetemi, sono veramente 30 anni che ho a che fare ed è 30 anni che non riesce ad uscire da delle nicchie. Oggi le nicchie ovviamente sono fatte da milioni di persone, ma nel mondo siamo 8 miliardi. Quindi, quando si parla di successo di una nuova tecnologia, bisogna tenere conto di questo. Per cui, la realtà aumentata, giusto per chiarire, è quella per cui alla realtà tradizionale fisica si aggiungono delle informazioni, si aggiunge qualcosa, si aggiungono elementi. Mentre la realtà virtuale è qualcosa che ti tiene completamente separato, in un modo avulso dalla parte fisica, perché ti porta direttamente in un mondo in tre dimensioni. Poi c'è chi, quindi sono due mondi diversi, la realtà aumentata è una tecnologia straordinaria, che può essere di grande successo e lo sarà probabilmente nei prossimi, forse mesi addirittura, dipende da quando i primi big usciranno con i dispositivi che permetteranno di utilizzare le tecnologie come si deve, perché ad oggi le uniche applicazioni che potete provare sul vostro smartphone, cercate per realtà aumentate negli vari store e vedete che quando inquadrate qualcosa apparirà qualcosa sopra, può essere il dinosauretto che è per i ragazzi o delle informazioni utili rispetto a degli oggetti o delle cose o delle persone. Che niente ha a che fare con un mondo in cui ti stacchi, distopico completamente da quello che stai vivendo in quel momento, è alienante, è un altro film, questo non significa che non verrà utilizzato, ma adesso ho visto recentemente una news di parte che chiamano Metaverse, la realtà virtuale, giusto per ficcarci dentro un po' di terminucci che hanno a che fare con il mondo cripto, dove cercano di vendervi qualcosa. Ma parliamo della realtà virtuale, perché così si chiama, realtà virtuale in cui vai a vedere la partita in un salotto virtuale davanti ad uno schermo virtuale, ma perché con risoluzione bassissima peraltro, ma perché non ha senso, uno dice ma però il futuro, beh sì, allora se dobbiamo oggi investire sul futuro, investiamo sul teletrasporto, perché prima o poi arriverà, investiamo su quello allora, se dobbiamo investire sul futuro, perché se dobbiamo andare, ma è lontano, ma non si sa, ecco manco quello. Quindi amici, concretezza e ogni volta che vedete realtà aumentate, realtà virtuale, nella stessa frase alzate il sopracciglio, o questo, quello che preferite, e soprattutto occhi aperti.